Torino è davvero la città della prima genitura. L'anno scorso è stata nominata capitale europeo della sport e ha ben ragione. In effetti nella nostra città hanno avuto inizio diverse discipline sportive. Nel 1844 un zurichese Obermann, proprio qua vicino in via Magenta, istituì la prima società di ginnastica e di scherma. Più tardi nel 1863 il ministro Quintino Sella dopo aver scalato il Monviso fondò il CAI nella nostra città, il Club Alpino Italiano. Sempre nello stesso anno in Riva al Po, l'altro gioiello della nostra città, venne fondata la prima società di canottieri, la Cerea. E veniamo al ciclismo. Nel 1876, 24 maggio, si corre la prima corsa ciclistica del mondo e la Milano Torino. Si arriva quindi a Torino. Non sono le biciclette di oggi chiaramente, erano i cosiddetti bicicli antidiluviani con le ruote anteriore di un diametro spropositato e quella posteriore piccolissima. Si doveva prendere una scala per salirci sopra. Il percorso da Milano a Torino venne effettuato in più di 15 ore. Il calcio, 8 maggio 1898, mentre a Milano Bava Beccaris sparava contro la folla che voleva una diminuzione del rincaro del pane, a Torino si disputa il primo campionato italiano di calcio. In una sola giornata, semifinale al mattino, finale al pomeriggio. Lo vince il Genova per doveri di cronaca. Ma Torino ha avuto la prima genitura in altri settori, a prescindere dal fatto che è stata la prima capitale d'Italia, che è la cura del risorgimento. Torino è stata la città che in Italia ha avuto il primo volo aereo. È stata la città dove è nata l'automobile, dove è passata per la prima volta il cinema, la radio, la televisione, la moda. Persino qua ci troviamo alla gamma. La prima galleria d'arte mondiale contemporanea è proprio un'antenata della gamma ed era in via a Gaudenzio Ferrari, anche qui l'anno magico del 1863. Anche il jazz ovviamente ha la sua prima genitura a Torino. Perché? Perché tra la fine della prima guerra mondiale e la marcia su Roma di Mussolini, quindi inizio anni 20, gli universitari torinesi per festeggiare la tesi di laurea, cosa facevano? Prendevano il treno e andavano a Parigi. A Parigi vennero a contatto con una musica assolutamente nuova. Era la musica afroamericana portata per la prima volta nel nostro continente da quei mostri che furono Sidney Bechet e soprattutto la sensuale Josephine Baker. Non solo, ma nel 1935 qui a Torino al Teatro Chiarella, Louis Armstrong effettuò l'unica sua esibizione durante il periodo fascista che chiaramente osteggiava tutto ciò che era americano e soprattutto nero. Al Teatro Chiarella fu un successo straordinario. Molti gerarchi fascisti ovviamente in incognito applaudirono il mito della musica americana. E veniamo alla fine della guerra nel 1945-46. Due giornalisti, Piero Angela e Gigi Marcico, fondarono il primo club di jazz in Italia, Lot Club. E oggi, domani cioè, inizia il Torino Jazz Festival, giunto la quinta edizione, che è secondo solo all'Umbria Jazz, che ha una storia chiaramente più lunga. Ma a differenza dell'Umbria Jazz, Torino ha la particolarità di avere tutti i suoi eventi in un chilometro, non come l'Umbria Jazz che l'ha disseminata in tutta la regione. Ma a Torino, in questo momento, ha un'altra primogenitura, cioè non c'è oggettivamente stata in Italia nessuna città che ha dato una generazione di giovani talenti jazzistici come la Torino in questi anni. Ed è questo il motivo per cui io ho scritto un libro che è questo, La bellezza senza tempo, e che presenterò oggi pomeriggio nella prestigiosa sala delle colonne al municipio di Torino. Il libro segue tre piste parallele. La prima è il profilo di 25 giovani jazzisti, racconto quindi la storia della loro famiglia, dei loro studi, dei loro sogni. Li cito. Sono Johnny Lappio, Emanuele Francesconi, Tiziana Capellino, Fabio Giacchino, Gianmaria Ferrario, Simone Garino, Sergio Di Gennaro, Luca Curcio, Gabriele Ferian, Ruben Bellavia, Gian Giacomo Rosso, Enrico De Gani, Marta Antolovic, Dario Terzuolo, Jacopo Albini, Alessandro Di Virgilio, Giuseppe Recupero, Davide Liberti, Fabio Gordier, Daniele Ciuffreda, Alberto Gurrisi, Cécile Del Sant, Gianni Virone, Michele Millesimo e Silvio Carbotti. Tutti questi sono nati fra 1980 e 1995, quindi l'anno scorso quando io feci questa ricerca nessuno di loro aveva ancora compiuto 35 anni. La seconda pista è quella delle location. Il mio obiettivo era quello di trovare 25 artisti e li ho trovati, ma soprattutto di andare ad ascoltare in 25 locali diversi di Torino. E di questi 25 locali, dai nomi prestigiosi come Museo Egizio, come La Gama, come Baratti Milano, come Caffè Fiori, vi sono altri alternativi ovviamente come il birrificio Torino, come Caffè Des Arts, eccetera. Ma di questi locali io ho raccontato la storia, l'arredamento, la peculiarità, oltre che fare una recensione anche dello spettacolo gezzistico in particolare di quella serata. E veniamo alla terza pista, quella più creativa, mia personale. Essendogli un poeta chiedevo ai musicisti di segnalarmi qual era, che sono ovviamente anche compositori, di segnalarmi qual era ovviamente il brano a cui loro tenevano in particolar modo, in modo tale che io potessi scrive una poesia sul loro brano. Avuta questa informazione e segnalatemi dai musicista stesso, io scrivevo su questo taccuino la poesia e la facevo autografare appena dopo. E questo autografo è una sorta di vidimazione di un lavoro effettuato veramente nel locale dove avveniva lo spettacolo. Non ci fu sera in cui non tornai a casa senza la poesia. A questo punto io vorrei recitarvi due poesie, così come è venuto questo lavoro. Per esempio, prendiamo il caso di Jacopo Albini, un giovane sassofonista, che mi ha detto guarda io ci tengo molto a una poesia che si chiama My Highest Mountain Lake, cioè il mio lago d'alta montagna. Mi piacerebbe molto che tu scrivessi una poesia su un lago d'alta montagna. Ora per me fu un invito a nozze, in quanto amo incredibilmente un lago di alta montagna che è il lago d'Unghiasse, che si trova nella Val Grande di Lanzo, a 2500 metri, e che è anche il lago naturale di superficie maggiore e di profondità a 70 metri a quel livello. Per arrivarci ci vogliono tre ore di tempo. E allora io ho scritto questa poesia che ora ve la leggo. Il mio lago d'alta montagna, l'acqua sorgente di vita a specchiare il cielo, il mio lago di montagna a interrogare le nuvole, il gioco magico degli angeli, il premio dell'azzurità, il possibile occhio di Dio, il suo mantello celeste per riparare gli errori dell'immanenza. Il lago d'Unghiasse è il baricentro della mia vita, il cromatismo ormonioso che ha rivestito la mia anima, rifugio senza ripensamenti. Dove si annidano fra pazienti fili d'erba le cenere di mio figlio, concime per il sentiero che ci accomuna, destinazione infinito. Ma vorrei concludere questo breve mio intervento qui alla GAM spiegandovi il titolo. Perché la bellezza senza tempo? Il sottotitolo è il jazz giovane a Torino, è chiaro. Ma la bellezza senza tempo è il titolo della poesia, diciamo così, la punta dell'iceberg. L'anno scorso il Trinito Jazz Festival venne inaugurato con un evento assolutamente eccezionale. Per otto ore, 70 musicisti guidati da quel grandissimo arrangiatore americano, improvvisatore, polistrumentista che è Anthony Braxton, 70 musicisti provenienti da ogni parte del mondo, diretti da lui, per otto ore, dalle 18 alle 2 di notte, suonarono all'interno del museo egizio. Un luogo assolutamente straordinario. Ora questi musicisti si portavano gli strumenti a spalle, certamente non c'era nessun pianista, era impossibile trasportare un pianoforte da un piano all'altro. E così si sentiva musica, vuoi in un salone, vuoi lungo le scale, vuoi in un ballatoio, vuoi di qua, vuoi di là. E a volte si riunivano tutti quanti insieme. Di questi 70 musicisti, ecco, 7, quindi il 10%, sono giovani musicisti inseriti in questo libro, quindi sono giovani torinesi. Alcuni di questi, Anthony Braxton li ha convocati con sé poi in America e li ha fatti suonare anche in America. Questo per dire, insomma, una cartina di Tornasoli di quanto sto dicendo. Ora il merito di tutto questo va in buona parte a Furio Di Castri, che è direttore del Dipartimento Jazz al Conservatorio di Torino e che quindi ha avuto un ruolo di enorme importanza nel forgiare questa splendida ruola che noi abbiamo. Bene, ora sentire questa musica nel Salone dei Re è veramente stata per me un'emozione grandissima. Se vogliamo, con un pizzico, vabbè, di ecocentrismo che qua c'entra nulla, era il 28 maggio, giorno del mio compleanno. Io mi sono permesso, proprio alle 23.45, ora in cui nacque, 65 anni prima, di scrivere sul piedistallo di una statua di questi faraoni va bene la poesia. Ora, voi sapete che il Museo Egizio è stato recentemente restaurato e abbellito in modo incredibile da Dante Ferretti, lo scenografo che ha vinto ben tre Oscar in America e che quindi, e che i maggiori registri del mondo lo vogliono per il loro film. Concludo quindi con questa poesia, che ha titolo La bellezza senza tempo, che concludo quindi con questo mio breve intervento. Disarticola la gabbia del tempo con levità la bellezza, respira, plasma il divenire, anche con queste pietre possenti, per riversare di luce tenebre di stanchezza, inevitabili, come è inevitabile la fragilità umana, quando avanza a fari spenti nei bui labirinti della storia. Ma qui, al Museo Egizio, si tramandano teoremi di soluzione metafisica, la forza dirompente della fantasia. Si muovono, respirano. Ci avevano provato già i prigioni di Michelangelo, il marmo da tragedia rinascimentale. Ora ci pensa il cinema californiano, finzione da stordire i sensi. E queste musiche di Braxton, l'improvvisazione sublime, pare ferma, lontana e come le statue faraoniche si avvicinano con discrezione. Ti scaldano il cuore, ti illuminano nel tempo. Pura estasi.